Ogni mattina i nostri razzi vanno nello spazio, ma io mi chiedo che giorno è oggi? Lunedì! È lunedì! Allora dai andiamo tutti insieme sulla luna! Ogni mattina i nostri razzi vanno nello spazio, ma io mi chiedo che giorno è oggi? Martedì! È martedì! Allora dai andiamo tutti insieme su Marte! Ogni mattina i nostri razzi vanno nello spazio, ma io mi chiedo che giorno è oggi? Mercoledì! Mercoledì! Allora dai andiamo tutti insieme su Mercurio! Ogni mattina i nostri razzi vanno nello spazio, ma io mi chiedo che giorno è oggi? Mercoledì! Mercoledì! È giovedì! Mercoledì! Allora dai andiamo tutti insieme su Giovedì! Allora dai andiamo tutti insieme su Giove! Ma io mi chiedo, che giorno è oggi? Venerdì! È venerdì! Allora dai andiamo, tutti insieme, su venere!